L'avevo scambiata per Babbo Natale, le chiedo scusa. Il suo Babbo Natale è sbronzo, signora Boccarina. Oh, no! Già! Buone feste, bambini! Buone feste! Non credi a quello che dico, non è vero? Intendo dimostrare che il signor Chris Kringle è Babbo Natale. È pazzo anche lui! Miracolo nella 34esima strada. Martedì alle 20.55.